Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di New Super Mario Bros. U per Nintendo Wii U Ok, in questo episodio penso che, insomma, cercheremo di finire questo mondo Dovremo fare uno o due livelli, il boss finale cioè Ludwig Koopa e un livello extra prima di arrivare al castello di Peach Ma dobbiamo arrivare al livello là sotto, qui dobbiamo di nuovo tornare indietro E aprirci la strada diversamente, mo ci arriveremo in qualche modo Ok, vediamo un pochino, sì, forse prendendo la strada, eh, devo per forza passare di lì Ok, strada di metà? No, fuck Che due coglioni, che due coglioni, cominciamo benissimo Stato ce la facciamo per farli fuori, si tizi, o no, che dici? Ok, e minchia di nuovo Veramente, cioè, ciao, eh, ammazziamoci proprio amabilmente Io devo arrivare comunque nella piattaforma là sotto, a me non me ne frego un cazzo Se mi fate arrivare Alleluia, ce l'abbiamo fatta, tra l'altro avevo preso una stella perché non riuscivo ad andare avanti Avevo preso già tipo tre vite per fare sta cosa, un tuffo nel cielo, un tuffo nella merda, porca troia Ok, bene E tra l'altro iniziamo subito con un livello facile Ma mi sta bene come cosa, mi sta bene Qua non prendiamo questo, sennò ci respawno la stella e non ci serve qualche potenziamento, possibilmente Ok Ah, mamma mia Certo che se iniziamo così i livelli, ciao, eh Ok Qua, intanto, soprattutto perché stiamo parlando di livelli facili, no, questi qua Allora, giustamente, se li iniziamo subito bene così, ciao Dunque qua, tra l'altro Saliamo su di qui Scorciatoia Voi morite? Sì? Sì, 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 ciao, ciao, ciao Ok Prima moneta stella che potrebbe essere tipo da qualche parte qua Oh yeah Dunque Qua Se non ricordo male Potrebbe essere utile, sì Avere Oh Mamma mia Avere questo Non l'ha preso, fuck Pensavo di lanciare il guscio per prendere la moneta stella, non l'ha presa Ok Allora morite voi così, almeno io riesco a prendere questa, fuck Oh, meno male Qualcosa c'è? Qualcosa Ok Forse si potrà passare da sotto, ma non ce ne frega Comunque Abbiamo preso la prima moneta stella, boys Va bene così Va bene così Va bene così Senza parole Ok Oh, metà livello già Meno male Meno male Ok Qui Sì Qua probabilmente ci dà qualcosa di faico Se raccogliamo tutte le monete rosse No, sto a prendere monete stella, ma sono monete rosse Eh, non ce l'ho fatta chiaramente in tempo Ok Qua non c'è nulla Ah, beh, certo Mi sembra giusto Mettiamoci anche questi tizi di mezzo Per prendere le cose un po' più facili Ok, mi sta bene Ok Oh, sali Su di qua Sì, entra nella pozza Ok, entra da questa parte Grandissimo Ok Muori e fuck Ok Seconda moneta stella l'abbiamo presa Ok Ah Bene Simpli Very simply You simply the best Ok Oh mamma E devo andare dall'altra parte No, forse riesco a fare una cosa faica con il suo grandissimo Ho preso una scorciatoia Oh E l'altra moneta stella Ah, è qua Facile Eh, vabbè Yeah Eh Mo, non è che Possiamo pretenere chissà che cosa Ovviamente dovevo farmi colpire una volta Che caspita Mi sembra già abbastanza complicato di suo Ok Qua Yeah Così recuperiamo magari una vita che abbiamo perso Minchia, ho preso veramente tre vite all'inizio Cercando di fare quella mini sezione che era inutile sostanzialmente Comunque è andata Questo livello è iuto E quindi l'abbiamo fatto Ora Ma noi ci siamo ricongiunti a essere Almeno non dobbiamo più impazzire Perfetto Quindi adesso ci rimane da fare Il livello numero sei Serpentina nella nebbia Serpentina mi sta andando di blocchi Quelli che scorrono Vero? Ah E te pareva a te Vaffanculo Ok Vabbò Vediamo Vediamo Se riusciamo a sopravvivere Ok dunque Vediamo un po' se mi ricordo dove sono le monete stella Le monete stella Ok Tu vuoi morire? Sì Ciao Oh Vediamo questo potenziamento Che Niente niente Mi serve No Mi serve questo Ok E vabbè Pazienza Ho preso il potenziamento Ma se non altro sono riuscito a prendere la moneta stella Ora sarebbe utile tipo avere un Tipo non so Un metà livello Toh Buttata lì eh Buttata lì proprio Ok Qua Secondo Uh Fuck Ciao Ok Qua Eccola qui Seconda monete stella Benissimo Questa è manovale che l'ho presa subito Perché se no me la sarei Persa Uh Mi piacciono un sacco questi livelli Li adoro Ah Mamma mia Che cacchio stava succedendo lì in mezzo Vabbè Comunque Qua sembra essere andato sto pezzo E' andato abbastanza in scioltezza Qua c'è qualche Potenzialment No Assolutamente no Vabbè Andiamo giù per il tubo Anzi Facciamoci sparare Dal tubo In aria Oh yeah Metà livello Good Meno male Ok E qua ci rimane da prendere Ah Bello Ciao Fottuto Fire Koopa Vieni qua Dammi sto potenziamento Che poi sto potenziamento qua A volte è utile A volte è controproducente Non sempre è utile Avello Eh Dunque Là ecco Tra l'altro Dovrebbe essere qua Tra questa moneta stella O da ste parti Comunque Aspetta un attimo Ma non è che mi ricordo più Benissimo Vediamo un pochino Tu hai smesso Se il pentone Minchia sembra di giocare A snake Cazzo Ok Dove cazzo Peterina è La moneta stella Ok Minchia che Burdel Ok qua Ok Qua bisognava Fare questo Oddio Non proprio così In maniera faica Pensavo in maniera Un po' diversa Ma comunque È andata bene È andata bene Tu smetti di fumare Il drogato Non era facile Quella moneta stella Da prendere È abbastanza complicata Ok Tu smetti di Sparare Maledetto Minchia che casino Però eh Oddio 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 Dimmi che è finita Sto cosa Oh Meno male E anche questa è andata Minchia Primo colpo No Non ci credo Non ci credo Non sono io Che sto giocando Ok Ok Recupero tutte le vite Che abbiamo perso Fantastico Non sono io Che sto giocando Chiaramente Perché non posso Finire un livello In maniera così faica No E sono voluto A primo colpo No Non sono io Non sono io È la mia controfigura Ok Ora ci rimane Di andare a fare Il castello finale Buono No grazie Ah tra l'altro qua Oggetti ne abbiamo Già consumato qualcuno Potremmo anche tipo Qualcuno recuperarlo Tra l'altro Prima o poi Quelle ghiande Con la P Le prendiamo Castello meccanico Di Ludwig Ma tra l'altro abbiamo Poi la Star Rod Da andare a fare Quindi Lì quelle ghiande Ci sono assolutamente utili Tra l'altro c'è Un rubanillo Che mi sono ricordo Adesso che non avevamo preso Now I remember Qua no Teniamo pure questo Che Torna più utile In queste Questi fottuti Livelli Di Mercoledì Ok Dunque Vediamo un po' Oh Ma Ma vaffanculo A te Finocchio Finocchio Bastardo Oh Che pezzo di merda In culo A te Assolita Chi non te lo dice Ok La prima volita serie L'abbiamo presa Va bene Sarebbe stato molto più utile Avere Adesso quel potenziamento Della ghianda Salve Della ghianda Non averci Adesso potrebbe Darci dei problemi In effetti Ok Aspettiamo un attimino Tu Togli quelle punte Minacciose Che Non si è per niente simpatica Guardate che ho avuto la testa di sotto Ok Qua dobbiamo Fare Questo Qua Ecco Perfetto Mi sono fatto colpire Ma era voluto Nel senso che Non dovevo distruggere il nemico Dovevo saltare in testa Per prendere quel blocco Perfetto Oh Qua c'era L'inculata C'è inculata In realtà abbiamo preso delle monete Extra Quindi va bene Qui Tu cosa vuoi fare? Non lo so Tu cosa vuoi fare? Come quello del Cos'era? L'arrivo della giungla? Sì I condor I condor Oh Ciao Vieni qua Tu Fammi passare Adesso Da questa parte Ok No Puttana Merda Puttana Merda Minchia Che abilità magistrale Nel salto Te credo che In falafanzia di nove Non siamo riusciti a prendere La cosa del salto Della corda Te credo Sono un imbranato Di minchia Ok Passato quel punto Possiamo andare avanti Dunque La terza ed ultima moneta Stella Eh E chi se la ricorda E chi se la Oh Ciao No bastare Adesso non riesco più a uscire Da Uh Mamma mia Cosa ho fatto? Vieni qua che mi servi? Che mi serve qua C'è un potenziamento Eh No C'è un cazzo di niente Va bene Eh Ah Aspetta un attimo Che forse Qua si può fare qualcosa Sì Si può andare in sto tubo Potrebbe esserci qualcosa Di molto faigo Come nulla Ma Noi In ogni caso Oh Monete Monete Come se non ci fosse un domani Vabbè A meno che non mi dai una moneta stella Non me ne frega assolutamente nulla Cioè Smettila pure Hai altro da darmi? A parte queste monete? No Allora me ne vado Ciao Cioè Ve l'ho fatto vedere Il passato di segreto Ma ciao poi Eh Stammi proprio bene Eh Volevo tipo prendere questo Se è possibile Vieni un attimo qua Tartosso gigante Dai però Mi servi Vieni qui Non posso neanche stare troppo fermo Perché se no Ok Niente Non c'era un Kaiser Eh va bene Pazienza Ok Eh Dunque La Oh Ammazzati Maledetto In culone Quindi qua Blocco Ok Perfetto Ah eccola lì La moneta stella Ok Eh Dobbiamo solo aspettare un attimino Per poterci Infi Oh Mi stavo per far schiacciare Perfetto Ok Andata E adesso Dimmi che qua c'è un bel fiorefuoco Come da tradizione Oh yeah Fiorefuoco E possiamo andare a battere Ludwig Koopa Oh yes E poi facciamo ancora Mi sa Tanto Sì dai Ce la facciamo Facciamo ancora l'ultimo livello Prima del Del castello di Peach E poi Poi basta Poi andiamo nella prossima parte Appunto ad iniziarlo Però per questo episodio Facciamo questa fortezza Il prossimo livello Poi basta Che l'altro prossimo livello Un altro di quei belli livelli Chiamiamoli simpatici Chiamiamoli simpatici Per non chiamare diversamente Ha dei capelli fantastici Ludwig Koopa Eh Cosa stai facendo Cazzo Mewtwo Oddio Un po' del naso No Oh Fuck Ok Era lui Oh ciao Uno Ciao Stami bene Stami bene E No Maledetto E mo Devo dimostrare attento Per questo Sparerà Sparano tutti e tre Sti Maledetti No Non era lui Oh Fuck Era questo Ok Infame Ok E mo Ci rimane L'ultimo colpo Da dargli Ok Va bene Sparate ancora una volta Triplicate Sì Fa quello che vuole Quello che vuole Oh Oh Stavolta Uh Ma Oh Stavolta L'ho preso il primo colpo Minchia ma doveva togliere poi forse il potenziamento Se non era contento Dice Minchia gli altri miei fratelli Mi hanno ottenuto un potenziamento Almeno uno Dice Anzi parte Si fa schiantare da qualche parte Ok Non salviamo qua Aspettiamo un attimino Oh Ciao Sì 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 Ehm No Non voglio salvare Faccio più un salvataggio rapido dopo Perché voglio ancora andare qua un attimino Oh Mi sa che c'è la nave di Bowser Eccola qua Perfetto C'è ancora questo livello qua E poi niente Poi andiamo a fare l'ultimo mondo Ma nella prossima parte O comunque non andremo a iniziare Sicuramente non lo faremo tutto nella prossima parte Questo è poco ma sicuro Ciao Ah mi ha salutato All'aria in baggio Del veliero volante Oh oh E molte le ricordi tu le mani testate da dove sono? Io no Io non me le ricordo Però Boh Dato questa musica bellissima Che chiaramente è il motivo del Delle navi di Super Mario Bros 3 Chiaramente riorchestrato Mi piace un sacco anche la serie di Super Mario Anche per questo Perché I brani vengono Cioè sono meno male sempre i stessi brani Ma vengono sempre riorchestrati Mi piace un sacco questa cosa Ok qua tipo ci possiamo abbassare e stare qui Sì Meno male Meno male perché se no Oh Oh No Non riesco A uscire Non riesco a uscire Oh Non riesco a uscire L'inculata No Inculata non riesco a uscire Guardate Ma già Non è possibile Guardate Inculata di merda Non mi devo infilare lì Magari eh Ma stavolta l'inculata stiamo attenti eh Possibilmente Perché Non è il massimo farsi fregare due volte di fila Ok Oh aspetta Vieni giù O no No Niente Questo però lo volevo tipo Provare a prendere Tanto va giù di là E te vare a te Te vare a te proprio Ok Occhio qua perché mi sa sempre di Bastardata Oh Maledetto Maledetto proprio eh Allora Allora Dunque No Lasciami perdere Ah qua comincia con i cazzottoni invece Interessante Beh Interessante come cosa Dami sto potenziamento Che cazzo Che poi mi serve per prendere la moita stella Ok Qua Cazzotto Allora sei forte Ma allora sei forte Cazzus Ok Ma possibile che ancora non ho trovato una Monita stella Come mai Mi sembra strana la cosa Mi puzza Ah ma forse avremmo una monita stella Proprio qua Ok No Oh cazzo Minchia che ansia sto livello Ok Oh meno male Metà Meno male Meno male Ok Quindi adesso la prima l'abbiamo presa Ma vediamo di Di ricordarci quali sono le altre Dunque La seconda Oh Ciao Anche le talpe Ma ciao Le talpe carpintiere Vabbè mi sembra giusto Grazie Ah qua devo comandare con Il pad Ok Interessante Qua Ok qua c'è una Oh Ah mi posso anche muovere io Però è volendo Cioè posso muovere La piettaforma la muovo inclinando Oh fuck Però io mi muovo Mi muovo così E muoio anche Va bene E qua mi saliva il potenziamento Fanculo Vuoi vedere che mi saliva il potenziamento qua? Dimmi che lo trovo Vai qua Dammelo Sì sì E prendilo però E prendilo però il potenziamento Cazzo Ok stavolta Scendiamo giù di qua Prendiamoci questo Potenziamento Ok Oh mamma Oh mamma Me lo devo tenere questo Perché mi serve Che Bordello no Mi serviva Cazzo Mi serviva Mi serviva E guardate E guardate che è facile Questa sezione Facile 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 Perché poi posso muovermi io Ma Devo anche muovere la piattaforma Dio Santo Oh 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 Facile 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 questa cosa Qua mi serviva il potenziamento Cazzo No Vai prendere Ok Magari riesco a riottenerlo Prendendo questo Vai di qua Non li sta prendendo Qua mi serviva il potenziamento Fuck Mi serviva qua Oh Ok Ora cerchiamo di tenere Porca troia Porca troia Porca troia Maledetta E vediamo se riusciamo A prendere con le Con le monete verdi Magari Ce la facciamo In un ultimo Disperato tentativo Vediamo Proviamoci perlomeno Oh sali su Sali su In culo a te In culo a te Maledizione Maledizione Prendi sto coso Ok Va bene Giù di qua Si vai Ok Minchia meno male All'ultimo No Oh Vai su di qua Minchia che boldello Oh ma Dio santo Ma che Cazzo è sto livello Mi sta facendo impazzire Ok Ma non muoviamo Perché non c'ho veramente Voglia di ripeto Non c'ho un cazzo Voglia di ripeto Tu smette di lanciare Chiara inglese Che ti spacco la faccia Ti spacco la faccia E ti spacco la faccia Muori Dammi un potenziamento Qua Non me lo dai Bastardo Non me lo dai Catroia maledetta Catroia maledetta Ah era solo metà livello Questo Beh Se un altro L'abbiamo ottenuto Dimmi che c'è qualcosa Qua Allora entriamo nel tubo Ah Tosto sto pezzo Mamma mia L'ho detto che era un livello Simpatico Per tante tante rigorette Bowser Junior Ah Cazzo è diventato Punch Out è diventato Ok Ok vediamo D Oh Merda Schifida Oh Ma guardate Sì 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 No Mi serviva Mi servivano ste bombe Tanto non mi ricordo Se le devo tipo lanciare In testa No Anche perché in atto Non le posso lanciare Quindi Ok Che Ah che cazzo Dovevo prenderti probabilmente In testa Immagino Va bene Però Se non scendi giù Sarà difficile Che ti riesco a colpire Ah ma tipo Ah ma aspetta un attimo Eh Potevo fare così Cazzo Uh lanciala Mamma mia Ok Quindi la prima volta L'ho colpito Boh Sì Ma forse tipo Queste cose Tipo devo solo evitarle Ok Perfetto Devo solo evitare i cazzottoni E poi tipo Quando lancia giù Il pugno Tipo Risalire Su di lui Oh Eh Guarda Ma guardate No Maledetto Maledetto In culo In culo assolta Potevo anche farcela saltare in testa Però Volendo eh Dai Eh dai Bowser Jr Minchia E di nuovo Perché ho provato A lanciarmi troppo Perché ho provato Tipo di Mi fa una figura Barbina E allora Mi spaventa un po' La cosa Ok Due Eh Dai che ci siamo quasi Dai che ci siamo quasi Ancora una volta eh Logica Nintendo Mi suggerisce Ancora una volta Ok Questi facciamoli morire così Sì Cazzottone Oh Sempre più ripido No Ma vaffanculo Minchia che palle E ci rimane un colpo Adesso piuttosto mi sacrifico un potenziamento Ma quando andrò su in cima Mi faccio colpire Gli do una mazzata E chi si è visto si è visto Così almeno siamo a posto Dai Sì 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 Non me ne frega niente Vieni qua Muori Mi sono sacrificato un potenziamento Ma l'importante è averlo fatto fuori Cazzo di Bowser Jr Vagamente Oh Nubi diradatevi Perché io sono il nuovo re Del regno dei funghi Oh fuck Oh fuck Che è successo Siamo colpiti nel Do Che succede Ancora No Dimmi solo che scappa Che non c'è altro da fare Ok Boh Mi sembra una sequenza pilotata questa Bam Cazzottone Ok Perfetto Ho distrutto la nave Bravissimo Complimenti Mi sembra Mi sembra stata un'idea intelligentissimo Questa effettivamente Ok E quindi adesso Dovrebbe apressi tipo l'ultimo mondo Il castello di Peach Sì sì Oh Attenzione Giustamente Si autodistrutta praticamente La nave Va bene Ok Si è schiantata Sembra lo scendante Prima vista Ok Good Quindi Che si fa Io non riderei tanto Tanto per cominciare Ok c'è l'ultimo mondo Però Attenzione Ti ho distrutto la nave Ma che cazzo vuoi Ma vai Pedala Pedala Ah Ma guarda te Ok E qui Si apre la strada Per il nuovo mondo Abbiamo preso anche Tutte le molete stelle Hai tutte le molete stelle Delle nuvole di Meringa Questo è un buon segno vero? Yes Vuoi salvare? Perfetto Cade a fagiuolo Salviamo E quindi niente Io vi ringrazio per aver visto questo video Per l'arresto potete Mi sprogo qui Le mie bestemmie che ho tagliato Perché non l'avete sentito Le ho tagliate Perché sennò qua mi chiudono il canale Per imprecazioni E niente Vi invito come sempre A mettere un bel mi piace A commentare e condividere il video Se vi va Per ora che è tutto Noi ci salutiamo E ci vediamo al prossimo episodio Di New Super Mario Brosiu Poi ritendo voi Quindi Alla prossimo ragazzi Ciao ciao